io non ce la faccio più con questi big match ma quanti cazzo di big match c'avemmo ancora è finito il campionato cioè nella fase clou è un qualcosa d'assurdo poi le dirette concorrenti ci hanno partite facili a noi a una pressa all'altro peggio del così non ci vado a capire veramente siamo qui per commentare a bocce ferme tutto quello che secondo noi potrebbe succedere vi daremo dei consigli al fantacalcio non lo so per quale motivo ma io ce l'ho pevito vi daremo qualche consiglio al fantacalcio che poi c'è pure il microfono tra l'altro appunto che vi invitiamo a seguire al contrario mi raccomando non seguite nella dritta perché tal al contrario beccate tutto quanto detto questo ciao ragazzi ben ritrovati a tutti io devo capire se questa serie vabbè deve continuare fino alla fine da stagione ormai va a porto ormai ci stiamo ma se deve ritornare anche per il prossimo anno avete due modi per farmelo capire lasciate mi piace se ancora non l'avete lasciato se tutti quelli che visualizzassero questo video lasciassero mi piace arriverebbero almeno 10.000 mi piace a botta e per noi sarebbe importantissimo ma soprattutto cosa ancora più importante se ci seguite spesso se ci volete bene se volete supportarci la cosa più importante che potete fare è iscrivervi e attivare la campanella resterete anche sempre aggiornati quando pubblichiamo qualcosa lo so che per voi è una stupidaggine ragazzi per me per Fabio fa tutta la differenza del mondo no è uno starnuto non mi esce no perché l'hai chiamato due canali de calcio uno extra calcio in descrizione come sempre compariranno qui durante il video cominciamo con Frosinone Salernitana Frosinone vince secco allora l'hai detto anche un'altra volta la Salernitana non mi ricordo ti ha fermato era Salernitana sia Sassuolo ecco è appareggiato però era Salernitana Sassuolo adesso è Frosinone adesso io entro nell'ottica della Salernitana vuole dare fastidio vuole tirarsi dentro vuole oh l'ha fatto proprio perché tu hai detto l'ha fatto con il Sassuolo che sta là e il Frosinone lo sta sta in zona di retrocessione se li vuole tirare dentro se li vuole tirare a sé per me io non dico che la Salernitana non giocherà sta partita perché ovvio che raggiocheranno oppure senza troppi pensieri visto che ormai la retrocessione è dietro l'angolo però Frosinone avrà quella voglia di conquistare tre punti quattro pareggi consecutivi se non ricordo male per il Frosinone appunto devono prendersi tre punti appunto arriva al quinto pareggio consecutivo no no devono vincere non lo so vabbè comunque ragazzi fate vobbis sule me l'hai fregato eh sì sule oggi me lo sento proprio carico allora io ti dico in maniera clamorosa Turati quindi super prestazione di Turati secondo me fa pure un paranrigore qualcosa del genere dal lato della Salernitana Bradalic è andato proprio a caso senti io quella coppia là dietro Fazio Manolas sì pure a me l'ho letta ma uno dei due preparatevi uno dei due un gol a Manolas e assist Fazio o viceversa un gol un gol uno tra Fazio e Manolas la butta dentro io ve dico Las Las lo sapevo detto questo molto rapidamente Lecce e Monza Lecce ha fatto tre a zero tre in casa del Sassuolo che sferzata che ha dato al campionato tranquillità Monza che invece perde sì però Monza sicuramente in una situazione sì ma ti ricordi come ha perso il 26esimo Pallo De Maldini a momenti pareggiano secondo me è un pareggio esatto questa è una partita da pari pareggio scritto o addirittura secondo me Lecce potrebbe tirar fuori quel quattro tra le due secondo me è favore dal Lecce sono più tranquilli vai nomi Dorgula altra volta l'ho beccato e cambio e dico piccoli non me lo fregare piccoli cugini piccoli cugini Krustovic che è sempre un po' sembra un po' e per quanto invece riguarda Duric Duric mi ispira un po' Duric io vorrei dire Maldini ma Maldini non viene riportato titolare però ragazzi Maldini sta avendo una continuità pazzesca sembra essersi definitivamente consacrato comunque sta facendo molto bene se c'avete Maldini schieratelo siete matti se non schierate contro Lecce mamma mia ma un altro Big Man ci sta a pensare me l'ha passato un attimo di testa Juve Milan la Juventus per orgoglio per provare a rilanciarsi per infastidire il la Juventus ha cambiato allenatore sulla panchina siede Massimiliano Allegru vabbè giustamente lo cambiano in corso partendo però dal fatto che avessi allenato il Cagliari gli hanno semplicemente capito che poi è Toscana è Toscana vabbè è il Regen però quello quello sardo secondo me aspetta la chiave di lettura secondo me è una sola ragazzi brutta prestazione contro in Coppa Italia contro contro la Lazio contro la Lazio alla fine il gol Demiric ha detto stesso Allegri è stata il colpo di fortuna che dillo Allegri ce ne vuole le fatiche che te toglie dice te la giochi in casa contro il Milan che per carità ha perso il derby ma c'era la voglia dei rivals ormai veramente non ci hanno più niente da perdere ormai i pensieri per il Milan sono passati infatti io credo che vinceranno io pure ho questa impressione non ci sarà la Juventus che in casa dirà la sua o meglio la dirà ma non abbastanza il Milan è uscito da tutto la paura di perdere l'hanno fatta perché dovrebbero giocare male questa partita dovrebbero aver archiviato ormai una situazione infatti secondo me vince il Milan io sono convinto di questa cosa con le fatiche una cosa e un'altra per quanto riguarda la Juventus io ti dico in maniera anche abbastanza clamorosis rabbio che quest'anno ha segnato poco rispetto alla passata stagione non so più chi dire io te dico Vlaovic ma non sono manco tanto convinto no non sei convinto Leao no io vado su Olivier Giroud hai sentito ormai ho praticamente chiuso la carriera con il Milan andrà a Los Angeles Galaxy quali erano lo sono scordato vabbè Los Angeles a Zieta vabbè sul Lazio-Verona ragazzi io sarò brevissimo ma rapidissimo proprio vedendo come la Lazio ha vinto lasciate stare la Coppa Italia no no ma pure come ha vinto in Coppa perché comunque non ti dà il passaggio del turno ma in altra vittoria contro la Juventus però sei uscito no però guardando il periodo no una Lazio che sta vincendo spesso vince pure questa contro il passato dei sì dei di che ha allenato pure lui il Verona di Tutor perché ha allenato il Verona e Tutor si può dire che è uscito da beh diciamo che Tutor è uscito da Verona come un grandissimo allenatore però pure all'Udinese è già insomma qualcosina no 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 col Verona si è consacrato per me vince Casteggianos che ha dato una continuità pazzesca e Casteggianos che credo dovrò partire a titolare anche sì sì ormai si sono stabilite le gerarchie io però te dico Luisa Alberto non io ti dico Casteggianos io te dico Luisa Alberto ma pure i Saxen comunque secondo me dovesse giocare a titolare non sarebbe per niente male cioè ragazzi la batteria della tre quarti che siamo a due o a tre sembra molto interessante no no ma Tutor è in grado di valorizzare tanto quindi io te la dico così io invece per il Verona ti vado in maniera clamorosa su un laziale su Folo Ruscio ok hai detto che è tifoso della Lazio io pure vado su un centrocampista ma vado su Duda cioè che Marfan Tagar ci ha fatto mezzo gol e mezzo no qualcosina ha fatto vabbè dai su chissà poca poca ro però vince la Lazio ragazzi no allora Inter da campione d'Italia qualcuno mi si è messo a dire ieri o l'altro ieri su Instagram eccola è la volta buona per il no è la volta buona che perde perché l'Inter stanno ancora a festeggiare pe 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 chi indorme chi se fa le videochiamate chi se fa le videochiavate ma soprattutto ci sarà l'occasione per l'Inter proprio in casa cioè hanno già vinto lo scudetto a San Siro ma era pubblico Milan questa volta pubblico Inter tutto per loro che vogliono festeggiare lo scudetto festa scudetto una cosa in altra ragazzi con frattesi che dovrebbe partire titolare e credo sia anche giusto da più spazio a frattesi io ve dico frattesi e lo schiero anche al fantacalcio ovviamente dovessi partire titolare ragazzi cioè uno come frattesi ma io invece vado su Di Marco che novità cioè ha detto la cosa più scontata del mondo pensavo dicessi Pavard D'Arriano ma invece all'ultimo secondo Di Marco io credo che se c'è un giocatore che può dare quel qualcosa in più al Torino ad oggi è Duan Zapata quindi se in una partita così il Torino sta a lottare ancora per qualcosa di importante 7 visti 3 punti a San Siro ma tanto al massimo se proprio se proprio Cascam Meteorite pareggiano secondo me Zapata che lo vuole l'Inter tra l'altro lo vuole Milano lo vuole l'Inter lo vuole Napoli lo vuole Mizzia lo vuol tutti Mizzia perché c'è i soldi lo vuole un operato un giorno farà una grande prestazione ok benissimo detto questo ragazzi allora Bologna-Udinese io voglio essere onesto con voi la dimensione che apre col Bologna che sappiamo tutti situazione salvezza con l'Udinese sappiamo tutti situazione salvezza insomma la situazione abbastanza particolare che dovrà gestire Cannavaro in queste ultime giornate di Serie A ma dopo che il Bologna ha battuto la Roma in quel modo in casa nostra dopo che continuano a non avere pressioni e la Champions ormai praticamente ragazzi non è matematico ma cioè con Cannavaro ma soprattutto può puntare al terzo posto perché in questa giornata c'è Juventus Milan e Cajue potrebbe perdere il Bologna potrebbe andare terzo in classifica ma voi capite di che cazzo stanno a parlare io credo che entreranno in campo col veleno proprio per me ragazzi sarà una partita in cui non solo si divertiranno ma ci divertiremo noi a guardarla mi dispiace per l'Udinese perché la corsa salvezza si complicherà ulteriormente ma il Bologna stravince assolutamente sì e ovviamente ragazzi noi stiamo pubblicando questo contenuto ve lo ricordiamo stasera c'è la partita tra Udinese e Roma quindi manca quella io mi gratte le palle nel dubbio ti è ti è Calafiori no perché lo dico troppo spesso io ti riconfermo se il Mechera mamma mia pure se il Mechera pazzesco e per l'Udinese io dico guarda io vado sul difensore te dico Bicciol no io invece vado sul Lucca a sto giro che non schiererò mai contro il Bologna probabilmente soprattutto me dovesse giocare di Balare Techi e Lucumbo è ok però ragazzi cioè stavo dicendo un cataclisma Bologna perde tutte le partite arrivano quinti a Champions non so sappiano quale ma tanto arrivano quarti o terzi come dice lui secondo me arrivano terzi c'ho una paura perché in conto dici è Roma-Napoli no è Napoli-Roma con la partita dell'Udinese di recupero a parte non ne fido del Napoli perché quando sarà troppo male bravissimo quindi dovranno quando deve vincere perde quando si deve fare i cazua sistematicamente ci rompe le palle quindi sicuramente la Roma non la vince si complicherà ulteriormente la corsa Champions per noi quindi io già ho dato tutto quanto questa secondo me io qui lo dico e qui non lo nego questa secondo me è da dentro sono fuori se tu questa partita la perdi ma per Napoli questa partita non gli cambia nulla e per noi invece è da dentro è quello perché la pressione è tutta dalla nostra in casa loro il Napoli tirerà fuori l'orgoglio io spero di no ma lo tirerà fuori l'orgoglio ma sicuramente io vi dico Kvara 100% tu tanto so che dici Osimena no no io vado su uno dei nostri ex Politano Politano Mario Rui o Juan Jesus uno di questi tre ragazzi ha scelta Fade Vobbis vanno bene tutti e per la Roma leggo alcuni giocatori ma quello che mi ispira un po' di più è ancora Lorenzo Pellegrini no io vado su Bove in maniera clamorosa lo volevo dire pure io in realtà viene riportato Abram a titolare io vi dico la verità se gioco a Zmun titolare non lo possiamo perché poi il giornale fantacalcio ragazzi comincia da da domani da venerdì e la prima partita è in altra quindi non lo potete sapere non escluderei pure Lukaku perché è capace oppure che all'ultimo lo risparmiano lo risparmiano ovviamente per l'Everkusen ma tu pensa che fino a tutte le partite se parte a Zmun titolare buttatelo nella mischia ma se ce l'avete e non ce l'avete meglio buttatelo nella mischia ragazzi perché a Zmun secondo me è l'unico che si salva del tridente tridente offensivo intendo a Zmun Lukaku Abram intendo riserva della controriserva vediamo Atalanta-Empoli c'è ben poco da dire no perché no qualcuno mi ha scritto aspetta è giusto che io lo dica perché qualcuno mi ha scritto è ok ma le fatiche dell'Atalanta che ha sfischionato a destra e manca la Fiorentina dice c'è pure la partita di recupero guarda caso che la Fiorentina l'hanno sfischionato come niente fosse secondo voi non li rifischionano un'altra volta per me quelli sono già a tre punti ma più che altro dice no l'Empoli con Napoli sì però dice questi stanno capito tranquilli per me in casa è l'Atalanta che invece sta ancora più esaltata dell'Empoli perché sta in corsa su tutti e tre i fronti vuole conquistare la Champions diretta dal campionato è in semifinale d'Europa League e in finale della Coppa Italia meglio di così per la stagione dell'Atalanta non poteva andare stanno proprio su un altro livello quindi l'Empoli non lo vedranno proprio vedo Scamacca titolare non so se sapete dato statistica Scamacca segna pure segnerà ancora io infatti te dico Scamacca pure io è inutile che mi vada a girare intorno ad altri calciatori perché io non so se avete visto quello che cazzo ha combinato un Coppa Italia e hanno annullato un gol pazzesco giustamente fuori gioco fatto un gol è un gol clamoroso cioè abbiamo trovato probabilmente il titolare della nazionale italiana e sono contento non lo voglio dire perché da qua a quando comincerà l'Europeo le cose ne possono succedere ma ad oggi è quello sicuramente più in forma che c'è a via ogni volta che Scamacca parte titolare con l'Atalanta è una sentenza e non me ne vogliate tifosi dell'Empoli perché io penso siete una squadra che meritate le salvabbe si prosegnano il problema è sempre quello cioè io non so chi guarda io te vado su Luperto ma tu ce credi me l'hai fregato era l'unico l'uperto no 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 dico già sì così ma lo sai che l'anno scorso andate a ritorno ancora che strelli ma lo sai che l'anno scorso andate a ritorno ha segnato all'Atalanta gli unici due gol che ha fatto ce l'avevo io era andate a ritorno come che mi ha fatto pensare schieratelo tanto insegnerà mai Fiorentina Sassuolo no non ci stanno pizze dell'Atalanta che tengano ragazzi la Fiorentina ha giocato con uno di meno le fatiche la stanchezza sta partita se rimagna a colazione sto Sassuolo ragazzi ti ricordo però che la Fiorentina dopo tre giorni giocherà in Europa quindi io non vorrei che ci vada un po' con frena a mano tirato a me sto Sassuolo non mi fa niente paura no ma infatti non è tanto il Sassuolo è la Fiorentina il problema della Fiorentina no per me qualcosina faranno anzi vedo pure il nome la butta dentro Beltran a sto giro che giocherà a titolare vedo più probabile Buonaventura ma secondo me la Fiorentina non vince il Sassuolo il Sassuolo vedo bene volpato se gioca si anche io però vi voglio dare anche l'alternativa doig ragazzi non schierate ce l'ho al fantacaccio non fate la cazzata di schierare doig quindi schieratelo perché io non lo schiererò a fare a tripletta uno schifo indenne io vi dico consigli diceva come Piera Venticol io vi dico consigli probabilmente Piera Venticol però chi lo sa magari farà stranamente chiude il turno Genoa Cagliari non me lo aspettavo sinceramente e lo sai che è più equilibrata di quello che immagini molto più equilibrata guardando sto Cagliari delle ultime quattro ma io infatti direi più un X2 sorprendentemente pure secondo me io dedico Shomurodov come nome perché sta dando veramente una continuità a Farnesca si ha trovato veramente continuità e Gudmundson se finalmente torna a giocare no lo riporta a centrocampo 3-4-1-2 riporta tre quartista allora no sì no ah sì sì tre quartista scusa tre quattro no perché l'ultima ha giocato a centrocampo più arretrato per esigenze mi pare che era proprio l'ultima partita se arretri raggio d'azione uno come Gudmundson non si può esprime se sacrifica però se gioca sulla batteria della tre quarti sulla tre quarti sì per me Gudmundson più in avanti può reteghi può buttarla dentro segnerà manco per sbaglio e abbiamo detto tutto vi ringraziamo per la visione di questo contenuto alla prossima mi raccomando lasciate mi piace iscrivetevi ciao 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 ciao